3, 2, 1... Innovative RFK è una holding company che investe in start-up e prime innovative. La nostra idea è di sviluppare le aziende sia aggiungendo capitale e dando le risorse per svilupparle, sia dando le esperienze manageriali necessarie a queste aziende a svilupparsi. Lo facciamo attraverso il supporto del nostro Board of Directors, del nostro CDA e anche selezionando degli industry expert che sono quelli che portano delle competenze specifiche del business, sia per aumentare le loro vendite, sia per condividere le strategie di sviluppo e anche per dare una mano a mettere a posto le operation. La nostra idea è quindi di agire attraverso investimenti di capitale e di esperienza. Ci siamo quotati ad Euronest Parigi sia per raggiungere nuovi investitori e quindi avere accesso a maggior capitale da investire nelle attuali partecipazioni e anche nuove partecipazioni, sia per avere una sorta di prestigio e visibilità da dare al nostro fondo. Sino ad oggi abbiamo investito 10 milioni di euro. Il nostro obiettivo è di accelerare investendo altrettanti 10 milioni di euro, e quindi raddoppiando la capitalizzazione in quest'anno 2020. L'idea principale è di sviluppare le nostre partecipate portandole anch'esse alla quotazione in borsa.